LionVGF ha fatto una cosa molto brutta, ha rimosso il tasto Win, quello sul computer qui. LionV, VGF, quello che ha tolto qui, questo tasto di Windows 10, pure quello di XB del 95, vista 7, 8, 98 e poi dice Benvenoscchio, LionVGF ha fatto una cosa molto brutta, ha rimosso il tasto WESC, quello sul computer Quest. LionV, VGF, quello che ha tolto il tasto, quello tasto di Windows 10, pure quello di XB del 95, vista 7, 8, 98 e poi dice Benvenoscchio, LionV, VGF ha fatto una cosa molto brutta, ha rimosso il tasto Invio, quello sul computer. LionV, VGF, quello che ha tolto qui, questo tasto di Windows 10, pure quello di XB del 95, vista 7, 5, 7, 8 e poi dice Benvenoscchio, visto ha fatto una cosa, una cosa molto bella, ha rimosso tutto a posto, tutti i tasti del PC Vi sto fatto una cosa, una cosa molto bella, ha rimosso tutto a posto, tutti i tasti del PC